Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino su Fano TV, canale 17. Sette, eccoci pronti per un'altra giornata da trascorrere insieme con i nostri programmi e soprattutto con l'informazione che vi arriva direttamente a casa, sui cellulari, in televisione, in diretta, tutti i giorni, da lunedì al sabato. Andiamo a vedere subito il Santo del Giorno e poi il Tempo e i giornali, San Giovanni de Matà, poi il sole che sorgerà alle 7.40 e tramonterà alle 16.33, ma andiamo a vedere anche il Tempo. Non c'è molto da dire per la giornata di oggi, avremo un cielo sereno poco nuvoloso, attenzione alle foschie, locali banchi di nebbia nei fondovalle durante le ore più fredde della giornata. Per domani, venerdì 18, ancora cielo sereno poco nuvoloso con nebbie nei fondovalle, stessa fotografia, stessa immagine per sabato 19 dicembre. Probabile aumento della copertura per le giornate di domenica e lunedì, ma senza fenomeni degni di nota. E adesso invece i giornali. Cominciamo dal resto del Carlino, la pagina nazionale che apre con una fotonotizia che riguarda il famoso miracolo di San Gennaro. Nemmeno San Gennaro, il miracolo della liquefazione del sangue non si è ripetuto, fedeli delusi fra paure e speranze, così si chiude un anno nero, l'anno 2020. Natale in rosso, ecco il giro di vite, vince la linea dura, sarà lockdown quasi totale dal 24 al 27 e dal 31 al 3. Spostamenti vietati, bar e ristoranti chiusi, vaccino, assegnate le dosi alle regioni, ma ci sono tanti nodi ancora da sciogliere. L'intervista a Miozzo, bisogna riaprire le scuole. Corriere Adriatico, pagina edizione anzi di Pesaro e Urbino, stretta allo shopping, shopping calca. Da sabato il sindaco Ricci estenderà il senso unico pedonale in centro storico fino alla vigilia di Natale. Mai avrei pensato, dice Ricci, di poter emettere un'ordinanza simile, ma altre città ci hanno imitato. Attenti, questo virus non perdona, Santorelli fuori dal tunnel, poi i ragazzi, i ragazzini, anzi ladri, arrestati grazie alle foto sui social, sconti sulle tasse in cambio di favori per la sua famiglia. E poi rubare dei dolcetti costa a dei ventenni un amaro scherzetto. Ma la frase shock, quella di Guzzini, che abbiamo commentato anche ieri mattina, ex presidente del Confindustria di Macerata, dopo la bufera Guzzini lascia dunque Confindustria. E sotto, di taglio basso, concessioni per le terme, regione pronta al rinnovo, un doppio permesso per il rilancio di Carignano. Siamo a Fano, l'assessore regionale a Guzzi dice, ma ora vediamo il piano. Poi lo sport, con il Fano ripreso dall'Arezzo 1-1 negli ultimi secondi di gioco. E adesso il resto del carino di Pesaro. La fotonotizia per il commercialista uscito dal tunnel all'inferno e ritorno, Santorelli racconta il suo calvario. Sconti sulle tasse in cambio di favori, sotto accusa l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate. Con lui rischiano il processo anche altre sette persone. L'assessore Saltamartini alla Sanità, in arrivo 38 mila vaccini anti-Covid, pronti alla partenza anticipata. E poi da domani, attenzione, parte questa maxi-operazione con i tamponi di massa. Furti, ladri professionisti a soli 18 anni, arrestati dopo colpi a ripetizione. Poi il lutto che ha colpito la città di Pesaro, la città che piange Carlo Di Luca, il titolare dell'Ottica Molari. Ma c'è anche la polemica sulla prima del Carlino di Pesaro. Acquarori, sì alla stretta, ma non ho chiesto la zona rossa. E poi la casa di riposo senza pace, ovvero casa Roverella, salgono i contagi, trasferimenti e polemiche. Il calcio di Serie C, Alma che beffa, la vittoria sfuma l'ultimo respiro. Il Fano accrezza la vittoria fino al 95esimo minuto. Poi arriva il pareggio dell'Arezzo. Strategia invece per il rilancio, marca in zona economica speciale, la Regione ha annunciato l'avvio dell'Iter ed ecco i numeri del bilancio. Frase shock sulle vittime, Guzzini si dimette. Non volevo coinvolgere Confindustria, il Presidente nella bufera, la lettera di scusa agli associati. Parole gravi infelici, ma non rappresentano per nulla il mio pensiero. Negli ultimi mesi ho lavorato incessantemente per mettere in sicurezza le persone, anteponendo sempre la salute al business. Alle 16 è convocato intanto il Consiglio Direttivo per le dimissioni, decisione assunta per responsabilità. Il titolo del Corriere Adriatico, sempre su questo scivolone. Guzzini al Capolinia, dopo la frase shock lascia Confindustria, ieri la lettera informale agli associati, oggi le dimissioni ufficiali al direttivo. E lui dice, riascoltandomi ho capito la gravità di quanto ho detto, giusto farmi da parte. Tengo a ribadire che quella frase non mi rappresenta. E adesso invece la vicenda dell'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, che è stato arrestato dalla pagina di Pesaro del Carlino. In cambio le ditte assumevano i parenti. Chiesto il rinvio a giudizio dalla Procura per induzione in debita a promettere o dare utilità, sette indagati tra imprese e consulenti. Dunque cinque anni di inchiesta, un sistema oliato per ottenere favori, ditte che gli lasciavano il pelo per evitare gli effetti di accertamenti fiscali, tanto da riuscire a nascondere al fisco 1.200.000 euro complessivi e schivare tasse e sanzioni per 480.000 euro. Ma la finanza ha svelato il sistema Borrelli, dal nome appunto di Elio, ex capo del fisco di Pesaro, che è adesso indagato in questa operazione chiamata Operazione Concilia. Sempre dal resto del Carlino, i processi che si tengono in tribunale, questa volta con rito abbreviato, maltrettava la moglie, è stato condannato, lui dice mi sono difeso, furti in bar dal centro, patteggiano invece tre ragazzini. L'ex direttore concedeva sconti sulle tasse, il titolo del Corriere Adriatico, in cambio di favore e assunzione dei parenti, chiuse le indagini della finanza, coinvolti anche amministratori, soci e consulenti di aziende. L'agenzia delle entrate all'oscuro dell'operato, del funzionario che ora è in pensione. La pagina del Covid, il virus non rallenta il ritmo, quasi 500 nuovi casi positivi, siamo nelle marche ovviamente, 1 su 4 è la percentuale dei tamponi processati, i sintomatici sono al 13%, scendono i ricoveri tra reparti, ordinarie e terapie intensive, meno 22, 9 intanto le vittime. Contagi e ricoveri, il Carlino, titolo lenta frenata, da domani tamponi di massa, resta alto il numero delle vittime, conto alla rovescia per lo screening, ecco le regole, i test saranno effettuati alla Vitri Frigo Arena, al campus scolastico e all'istituto alberghiero. Qui chiaramente ci rivolgiamo esclusivamente a coloro che vivono, ci ascoltano e risiedono a Pesaro. 9 le persone decedute, dicevo, tra 3 delle quali residenti a Fano, uno di 61 anni, poi Fermignano e Mondolfo. Italia in zona rossa invece, le 3 ipotesi sul tavolo, a Natale e Capodanno tutti chiusi in casa, decisiva la riunione di oggi con le regioni, l'ipotesi più drastica, prevede un lockdown quasi totale fino al 7 gennaio, governatori spaccati tra rigoristi e chi vorrebbe invece riaprire, tenere aperto, il Premier Conte dice, dobbiamo evitare una terza ondata ad ogni costo. E quando potrebbe essere la terza ondata dietro l'angolo? quella di gennaio, dove tra l'altro si va a inserire anche la consueta influenza stagionale. Intanto si è pensato anche a fare dei blitz anti-assembramenti in ville e cascine, ma le forze di polizia non basterebbero, perché c'è questo problema che si sta discutendo, c'è questa ipotesi, come scrive il resto del Carlino, che per il Ministero dell'Interno però è impraticabile, ma nella riunione è stata comunque sondata come ipotesi, cioè quella di controllare dentro le case, per evitare che si organizzino feste in cascine oppure in ville. E all'appello però mancano forze sufficienti, sufficienti per praticare appunto questi controlli. Tra l'altro chi segue la rassegna stampa tutte le mattine e ormai sa un po' come stanno andando le cose. Abbiamo parlato, ricorderete, nei giorni scorsi, proprio qui vicino a Rimini, di persone che stanno organizzando cenoni e feste dell'ultimo dell'anno, ovviamente top secret attraverso le chat, attraverso messaggi mirati, precisi, per non essere scoperti ovviamente, ma che creerebbero, pensate, problemi incredibili e indicibili. Sì alla stretta, no alla zona rossa invece, questo è il virgolettato sul Carlino e sono le parole di Francesco Acquaroli che tra l'altro si è anche arrabbiato con l'informazione pubblica perché in un'edizione del telegiornale è andata, ha praticamente detto che insomma lui avrebbe dichiarato di volere la zona rossa per la regione Marche. Le Marche così inserite nel gruppo delle regioni che hanno chiesto al governo una linea dura per le feste, il Presidente però non ci sta, dice ho detto che sono d'accordo a frenare assembramenti anche nelle case ma non di trasformare le Marche in zona rossa. Carloni, intanto le attività economiche non possono pagare ancora una volta un prezzo così alto, poi per quanto riguarda il piano vaccini arriva il via libera delle regioni ad Arcuri avvio simbolico a fine anno poi campagna di massa l'avvio simbolico per dire che insomma siamo partiti nel 2020 quando in realtà tutto partirà nel 2021 agli inizi o metà di gennaio. Il Valzer della zona rossa a titolo del Corriere di Ancona comunque il Corriere Adriatico delle Marche Acquaroli duro, che follia, inutile parlare con Roma malinteso sull'intervento del Governatore nello Stato-Regioni ma quale chiusura sono disponibili a ragionare ma si diano agli esercenti ristori totali ed immediati. Qui è una questione prettamente e squisitamente economica, di soldi. Le agenzie, dice le Marche, chiedono il lockdown, la replica dice è falso. Oggi nuovo confronto a cui partecipare parteciperà anche il Presidente dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni, De Caro. Non vogliono ripartire il 7 di gennaio, ci dicono loro. Noi siamo pronti, faremo le elezioni in presenza. Parla Marco Ugo Filisetti, 64 anni, direttore ufficio scolastico regionale delle Marche. E lui dice doppio turno anche per entrare e uscire da scuola ma solo come estrema razio, proprio se siamo alla canna del gas, verrebbe da dire. Allora possiamo pensare anche agli ingressi, alle uscite scaglionate da scuola. Se no troviamo un sistema, soprattutto per quanto riguarda i trasporti, se le aziende dei trasporti non raddoppiano infatti le corse, va dilazionato l'orario. Si potrebbero fare dei subappalti ai noleggiatori di pulmini turistici per accompagnare dunque gli studenti a scuola ed evitare che siano tutti appiccicati come le sardine sui mezzi pubblici. Poi c'è questa notizia della zona economica speciale che è interessante, che troverete sul Corriere di questa mattina, anche sul Corriere di questa mattina. Allora, il titolo è una ZES, perché l'acronimo è questo, zona economica speciale, che sono aree geografiche circoscritte nell'ambito delle quali l'autorità di governo applica una legislazione economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese. Quindi una sorta di piccola repubblica economica marchigiana, possiamo chiamarla così per capirci. Stanziati 10 milioni per le imprese colpite dal Covid, da domani si possono fare le domande. Ci sono queste domande che si possono fare, se andiamo a leggere sul Corriere di questa mattina, appunto, tra le misure operative previste già per il 2021, ci sono questi 10 milioni di euro a sostegno della ripartenza delle imprese colpite dal Covid. Non stiamo parlando di grosse cifre, perché parliamo alla fine di un contributo massimo per ogni singola impresa che è di 1000 euro. Però, insomma, buttali via, di questo periodo tutto fa brodo, tutto serve. Poi ci sono anche altri soldi che verranno inseriti, sono stati inseriti, 15 milioni per esempio destinati all'emergenza lavorativa nelle aree di crisi complessa, 37 milioni di euro per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale, 34 per la manutenzione del territorio, per la difesa della costa a rischio idrogeologico, poi 10 milioni per la promozione turistica nazionale e poi altri milioni qua e là. L'obiettivo non è quello di tornare allo stato in cui eravamo prima della pandemia, ma di migliorare e trasformare le marche in una regione forte, innovativa, attrattiva, coesa, solidale e sicura, ha detto Acquaroli. La pagina di Fano del resto del Carlino, Santorelli all'inferno e ritorno, siate prudenti, dice adesso lui, che ha cambiato ovviamente registro dopo questa brutta esperienza che lo ha visto in terapia intensiva, anzi, l'ha visto con un piede di là e un piede di qua. Tra la vita e la morte, il commercialista racconta il suo calvario dal ricovero in ottobre ai 30 giorni in coma attaccato al macchinario per l'ossigenazione. Gianluca Santorelli, commercialista fanese, 52 anni, racconta questa sua esperienza e dice prima di ammalarmi ho viaggiato per motivi di lavoro, ho sempre preso tutte le dovute precauzioni. È un virus subdolo, il contagio è molto più facile di quello che pensiamo. Dopo aver trascorso 30 giorni in coma farmacologico attaccato a questa macchina, esterna che gli consentiva di respirare, dice lui non è stato facile affrontare la quotidianità e lottare per la vita nei successivi 30 giorni. Di questo parla anche il Corriere Adriatico salvato dall'eccellenza di Torrette con l'ossigenazione extracorporea. Santorelli ha vinto il Covid dopo due mesi di inferno grazie anche a Marche Nord e al direttore Capalbo. Poi lo stesso racconto anche se poi il Covid in questo caso ha prodotto effetti per fortuna molto diversi rispetto a quelli di Santorelli ma anche Giorgio Cattò ha raccontato e racconta questa mattina sul Corriere Adriatico la sua esperienza da malato di Covid è tornato in servizio al The Surgery al Santa Croce e anche lui appunto racconta un po' come sono andate le cose. passo indietro sempre sulla pagina di Fano di taglio basso Santorso e San Lazzaro avranno sempre più amici dei cuccioli avranno due nuovi sgambatoi nel quartiere appunto il Comune di Fano si impegna a diventare sempre più pet friendly partiranno nei primi mesi del 2021 i lavori per le due aree attrezzate dove i cani potranno divertirsi fare movimento e socializzare dice e sottolinea l'assessore Barbara Brunori poi sempre dai quotidiani di questa mattina dalle pagine di Pesaro ciao nonno Ermanno adesso abbraccia papà questo è il titolo toccante addio a Ferri ex titolare della Febale già presidente della Vis il ricordo del nipote Jacopo che mesi fa aveva perso anche il padre Claudio qui sotto invece è morto Carlo Di Luca dell'Ottica Molari rilevò la ditta negli anni 60 da tempo la malattia lo aveva tenuto lontano dalla sua bottega cerimonia religiosa ed esegue oggi alle ore 15 nella chiesa dei Cappuccini a Pesaro tornando a Fano invece il polifemmo ferito torna in forma al vallato il vallato è un quartiere della città di Fano la scultura di Giuseppe Papagni che era stata oggetto di vandalismi nel 2019 è stata restaurata e rimessa al suo posto davanti alla chiesa se ridice il sindaco di Fano ogni quartiere abbia la sua opera d'arte l'artista ma bisogna proteggerla con le telecamere mentre sulla pagina di Senigallia sempre a proposito e parlando di Covid un'altra di quelle notizie che insomma non fanno bene soprattutto per chi appunto ha paura di questa di questa malattia di questo Covid di questo virus una storia che si inserisce nella vita Nadia e Mario Nadia e Mario sono queste due questa coppia che purtroppo è stata uccisa dal virus in sei giorni la figlia dice e c'è ancora chi lo sottovaluta chi sottovaluta il virus Susan Vici che è appunto la figlia di questa coppia dice sono stati ricoverati insieme mia madre non aveva altre malattie e quindi invita a tutti ad indossare le mascherine Nanda Casagrande che tutti conoscono come Nadia aveva 76 anni e si era sempre occupato della famiglia casalinga moglie e madre premurosa Mario Vici invece che di anni ne aveva 80 aveva guidato l'ambulanza per il Misa Soccorso di Senigallia poi diventato 118 e si era successivamente trasferito in ufficio quando erano sopraggiunti i problemi di cuore i funerali saranno oggi ma Susan che si trova in quarantena la figlia essendo entrata in contatto con i genitori non potrà dare loro nemmeno l'ultimo saluto questa è la vera tragedia di questa brutta bruttissima malattia e di questo ne abbiamo parlato anche nella prima fase che evidentemente non è bastata a toccare e a sensibilizzare al problema che resta e resterà sempre lo stesso mentre da una parte ieri fino a ieri i giornali erano pieni di persone che volevano andare a fare shopping a Natale oggi invece le pagine dei giornali sono piene di persone che o ce l'hanno fatta per il rotto della cuffia come si dice oppure non ce l'hanno fatta proprio e come in questo caso addirittura se ne sono andati via in coppia covid hotel la fine mese scade la convenzione sempre dalla pagina di Senigallia del resto del Corriere Adrigate con l'albergo di Marzocca ci sono 25 persone ospitati anche alcuni studenti tutte persone chiaramente che sono in situazioni di contagio e quindi devono essere rimanere isolate casa Roverella qui è un altro problema parliamo di una RSA che insomma ha dei problemi i positivi adesso sono 44 i parenti vogliono denunciare la situazione sia grave acuisce i conflitti ma il comitato dice noi difendiamo la direzione intanto ieri ci sono stati nuovi trasferimenti anche nelle RSA di Macerata Feltria sopra il luogo dell'Asur contatti con la Marina Militare per l'invio scusate l'invio dei medici insomma la nostra impressione dicono i familiari di queste persone che sono contagiate è che la situazione sia davvero sfuggita di mano c'è anche la Befana tra le notizie di oggi sul Carlino la Befana di Urbania che è un evento di respiro nazionale che chiaramente quest'anno è costretta a mettere la scopa a lasciare la scopa nello sgabuzzino la Befana mette la scopa a riposo per il Covid annullata l'edizione 2021 della popolarissima festa di Urbania la salute viene prima di tutto dicono alla Proloco però la vedremo la Befana online presi i ragazzini i ladri i ragazzini incastrati dalle immagini che avevano postato sui social la squadra mobile di Pesero identificato e arrestato due diciottenni accusati anche del colpo a casa Fazzi sono stati incastrati queste sono le fotografie la dirigente della polizia dice si chiama Cognini dice molto importante la collaborazione avuta con i cittadini sempre dai giornali di questa mattina la notizia è anche che Pesero e quindi il sindaco Matteo Ricci estenderà l'ordinanza del senso unico pedonale e parla anche del successo che ha avuto nonostante qualcuno ci abbia riso sopra nonostante qualcuno l'abbia preso un po' in giro questo modello in realtà lui dice Ricci è un modello per lo shopping che è stato come dire imitato anche da altre città da sabato estenderà il senso unico pedonale in centro fino alla vigilia di Natale mai avrei pensato dice Ricci di emettere un'ordinanza simile ma altre città ci hanno imitato a vigilare la polizia locale e la protezione civile finora solo 5 persone 5 pedoni sono stati sono stati multati sanzionati intanto dice speriamo di uscire il prima possibile da questa situazione ma penso che ne avremo anzi che ne avremo fuori soltanto quando il 70% delle persone sarà vaccinato anche nella nostra città ovviamente la città di Pesero avremo mesi complicati e nell'imminente il periodo di Natale con restrizioni ulteriori da gestire e dovremo sicuramente aggiornarci ma il modello Pesero sul passeggio nel centro storico è stato uno degli esperimenti che ha funzionato meglio poi c'è sempre da Vallefoglia quindi vicino Pesero il Natale che davvero non ti aspetti le letterine si leggono su Facebook un appuntamento domenica con Babbo Natale Santa Claus in diretta social con Lelfo ecco come e dove spedire queste email domenica alle 5 del pomeriggio le riprese saranno di Fano TV verranno diramate poi anche su altri social anche sulla nostra pagina Facebook e quindi un appuntamento per così far sembrare un po' più Natale quello che Natale non è anche se ci sono le luci accese in giro l'atmosfera è davvero un'atmosfera surreale la Giunta prova il piano neve invece di allerta meteo Valle Foglia via Libera alla manutenzione del Rondot tra via 25 Aprile e via Mozart a Montecchio e poi si parla sulla pagina della Valle del Metauro di concessioni e dei due permessi per le terme di Carignano la Regione è pronta al rinnovo saranno due permessi uno perpetuo l'altro che scade nel 2021 Aguzzi assessore regionale dice vediamo il piano poi c'è a Fossombrone invece Fossombrone ha sempre io ricordo che ha sempre avuto problemi con le poste non c'è un buon feeling con le poste c'è qualcosa che non va la cassetta trabocca basta ritardi sono giorni che nell'ufficio postale di Fossombrone non viene ritirata la posta depositata dalla gente nel grande contenitore pubblico perché poi venga prelevata dagli addetti ai lavori trasferita negli uffici interni e poi spedita c'è di peggio visto che è considerato che chiunque può allungare la mano ed eventualmente prelevare le buste che stanno appunto per tracimare da questo grande contenitore dalla Val Cesano invece la pagina da Mondolfo parla di anche qui questa esperienza legata al covid di un astrofisico Antonio Marinelli che si è contagiato a cena incubo e guarigione in Turchia il racconto covid in famiglia fatale un parente asintomatico che non aveva sintomi era a cena in famiglia e lì purtroppo ha contagiato tutti Antonio Marinelli 43 anni che da due giorni che due giorni fa ha ricevuto la conferma che aspettava il tampone finalmente negativo ma difficilmente dice lui si potranno dimenticare i 20 giorni precedenti con febbre tosse perdita del gusto e dell'olfatto difficoltà respiratorie dovuta ad una polmonite interseziale al 20% poi da Terre Roveresche dal Corriere Adriatico modulo abitativo abbandonato tra l'incuria generale viene segnalato questo modulo in stato di abbandono dove che doveva servire alla protezione civile di San Giorgio di Pesaro nel Comune di Terre Roveresche però Andrea May ha denunciato attraverso Facebook lo stato di abbandono da Senigallia invece ristoranti e bar chiedono i The Horse ed eventi nasce l'associazione che riunisce solo gli esercenti di questi settori del commercio primo incontro con il sindaco su varie problematiche e sotto invece un giamborì ridotto salta il pre-festival gli organizzatori hanno fissato le date del prossimo anno si inizia il 30 luglio per andare avanti fino al 30 di agosto oggi intanto per Senigallia è un giorno importante perché arriva questo benedetto ponte 2 giugno verrà aperto al traffico dopo Natale ieri è arrivata la gru che dovrà spostare le travi in acciaio dovranno essere ricollocate balaustre le balaustre ai lati e poi c'è prima dello sport una notizia che sicuramente farà piacere a tutti quanti perché parliamo di musica parliamo di un grande cantante un tenore Andrea Bocelli che canterà dalle grotte di Frasassi e sarà il regalo di Natale in diretta mondiale domani grazie allo streaming di Facebook che ha voluto l'evento proporà un grande classico di Natale Silent Night il nostro modo per abbracciarvi è un articolo che troverete sui due giornali di oggi cinque i brani che saranno proposti oltre ad alcuni versi che il tenore reciterà in una delle sale tutto questo ripeto sarà in diretta su Facebook con insomma una diretta che sarà possibile dunque sarà visibile ovunque in tutto il mondo Fano beffa l'ultimo minuto invece il Fano ieri ha pareggiato ad Arezzo uno a uno i Granati in vantaggio con Barbuti si fanno raggiungere dall'Arezzo proprio allo scadere nel secondo tempo l'Alma si è difesa strenuamente ma non è bastato per portare a casa i tre punti c'è tanto rammarico l'altro titolo dal Corriere il tecnico del Fano destro dopo il pareggio all'ultimo secondo purtroppo non è la prima volta Barbuti non riesce a gioire mi sono sbloccato ma prendere un gol al 95esimo fa veramente male la visita invece ora ha ritrovato fiducia nei propri mezzi il centrocampista Biancorosso Gelonese più sereno dopo la vittoria di Immola e con questo salutiamo ringraziamo ovviamente tutti quanti voi che ci seguite da casa tutti coloro che ci seguono su Facebook anzi magari faccio come fanno quelli sui social mettete un like sulla nostra pagina e se vi è piaciuta questa diretta vabbè lasciamo stare ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia passate una tranquilla serena piacevole giornata insieme a noi arrivederci grazie a tutti Grazie.